Lisernia torna alla vittoria a Lancelotta battendo 2 a 1 il Chieti. Un match che fatica a decollare, il gioco si sviluppa infatti per lo più a centrocampo, con difficoltà si guadagnano gli ultimi metri, quelli più caldi del terreno di gioco, dove entrambe le difese a magliestette non lasciano passare nulla. Ed ecco che a rompere il ghiaccio ci prova Dos Santos per il Chieti, ma Pepe lo blocca, spedendo sul fondo. La risposta di Lisernia invece arriva dai piedi di Panico, che deposita tra le braccia di Fatone. Al quarto d'ora si affaccia Lisernia, che ci prova con Panico dalla distanza, ma la palla termina fuori. Arrivati al 42esimo invece, ecco sbloccato il risultato. Calcio piazzato per Lisernia, Ruggeri infila direttamente in fondo al sacco. Al 46esimo a fondo del Chieti, che si conclude con l'uscita di Maggi su Di Nardo, che signor De Girolamo di Avellino giudica regolare. Termina così la prima frazione e con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. Al 13esimo, contropiede di Lisernia, Manzo serve Fontana, che va a siglare così il raddoppio dei Biancocelesti. Al 36esimo, angolo per il Chieti, con Ricucci che indirizza direttamente verso lo specchio, ma Maggi esce di pugni e allontana. Prova di insistere il Chieti ed ecco il tentativo di Di Nardo, ma nessun pericolo per Maggi. Ma al 44esimo ecco che gli ospiti accorciano le distanze. Direttamente dalla bandierina riceve Sbardella, che batte l'1 di casa. Ma non c'è più tempo peraltro. Lisernia, con personalità e maturità, porta a casa i tre punti, tra i complimenti degli avversari, che invece escono dal terreno di gioco arrabbiati e delusi per una gara, detta del capitano del Grosso, disputata davvero male.